Sam è quello giusto, so che è lui. Non mi ero mai sentita così prima. Grazie per la visione! E così questo Sam è tuo padre. Il mistero si infittisce. Per tutto questo tempo Sam mi ha detto di amarmi. Invece ora mi ha detto che è fidanzata e sta tornando a casa per sposarsi. E io non lo rivedrò mai più. Ma che sfortuna! 4 agosto. Che nottata! Bill ha noleggiato un motoscafo e io l'ho portato sull'isoletta. Bill! Sophie, aspetta! Aspettaci! Anche se penso ancora moltissimo a Sam, Bill è così simpatico, un tipo divertente. Da cosa nasce cosa e puntini, puntini, puntini. 11 agosto, Harry è apparso per incanto. Così ho detto che gli avrei fatto vedere l'isoletta. È così dolce e comprensivo. Non ho resistito e... Puntini, puntini, puntini! Sì, mio Dio! Tan, 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 tan! Eccolo, dammi giro! Guardatele! Oh, mio Dio! Smettetela di crescere! Avete già cominciato a divertirvi? Oh, è vero! Una volta anch'io mi divertivo. Oh, lo sappiamo! Honey, honey, touch me, baby Uh-huh, honey, honey Honey, honey, hold me, baby Uh-huh, honey, honey You look like a movie star But I love just who you are Honey, to say the least You're a dog on Beast! Ehi, vabbè, non torno indietro! Ehi! Ehi! Maledetto! Concordo pienamente. Allora, chi è tuo padre? Sam, Bill o Harry? Non lo so, ma quale di tre ha invitato? Oh, mio Dio! E loro lo sanno! Ma che puoi scrivere? È un perfetto estraneo! Ti prego, vieni al mio matrimonio Forse sei mio padre No, credono che la mamma abbia spedito gli inviti E visto quello che c'è scritto qui Non mi sorprende che abbiano detto sì! Honey, honey How you thrill me Uh-huh, honey, honey Honey, honey Nearly kill me Uh-huh, honey, honey I heard about you before I wanted to know some more And now I'm about to see What you mean to me What you mean to me Bye Who0 Iu Iu Grazie.